Se qualcuno volesse togliersi la curiosità di sapere quanti terremoti ci sono nel giro di pochi giorni nel mondo, ma anche in Italia, rimarrebbe stupito dal numero impressionante di questi eventi. Molti non sono neanche percepiti dalla popolazione, ma altri invece sono disastrosi e portano con sé morte e distruzione. La Calabria è una delle regioni più sismiche d'Italia come frequenza e intensità dei terremoti causati dallo scorrimento della placca africana. Uno dei più disastrosi fu nel 1783 tra Reggio Calabria e Messina, culminando con cinque forti scosse superiori a magnitudo 5.9. Oltre a causare danni immensi radendo al suolo le città di Reggio Calabria e Messina e provocando maremoti, il terremoto ebbe effetti duraturi sia a livello politico con l'istituzione della Cassa Sacra e del primo regolamento antisismico d'Europa, sia a livello economico e sociale. Se ne è parlato nel corso di un incontro nelle sale del CEV a Vibo Valenza, organizzato da Rotary Club Ipponio con la collaborazione della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Come Rotary Club Ipponio Vibo Valenza abbiamo deciso di presentare questo libro che parla del terremoto del 783 perché il nostro governatore ha lanciato un progetto agora, un progetto legato ai bisogni del territorio e a come cercare di risolverli. Fra questi progetti presentati all'interno del Lago Rà c'è anche uno dedicato al terremoto e quindi diciamo ci siamo collegati alla parte storica del terremoto, a questi atti di un convegno fatto nel 2022 e presentato appunto stasera, che ci parla del famoso e disastroso terremoto di quel periodo. Un terremoto che ha dato la possibilità di riprogrammare il territorio con idee che all'epoca erano molto innovative. Sì, noi per questo l'abbiamo fatto perché bisogna partire dalla storia. Proprio guardando quel periodo e quel disastro immane capiamo che poi siamo usciti fuori con idee e con regolamenti nuovi. Proprio in quel periodo i Borboni decisero di fare per la prima volta nel mondo un regolamento per le nuove costruzioni antisismiche. Queste costruzioni famose ormai, ripeto, in tutto il mondo prevedevano delle pareti con all'interno una rete in legno. Questo tipo di costruzioni i nostri tecnici odierni hanno scoperto che hanno una certa validità effettivamente a tutela della caduta della casa. E' famoso il fatto che i giapponesi hanno proprio preso questo tipo di costruzione come esempio.